Irma Forte è tornata in libertà anche se non potrà dimorare in provincia di Sernia. La decisione è stata notificata ai due legali, De Rubertis e Rivellino, a un anno esatto dall'omicidio di cui la signora Forte si è assunta pienamente la responsabilità. Trascorrerà dunque Natale, presumibilmente in provincia di Campobasso, in compagnia dei figli che in questi 12 mesi mai le hanno fatto mancare il loro supporto. Nelle scorse ore la procura di Sernia ha terminato le indagini sul delitto. Il capo dell'ufficio inquirente Carlo Fucci, che ha seguito personalmente l'inchiesta, ha notificato l'atto ai legali di Irma Forte. Rea confessa dell'assassinio di suo marito, avvenuto nella notte fra il 23 e 24 dicembre, nell'abitazione di Santa Maria del Molise in cui vivevano i coniugi. I legali De Rubertis e Rivellino attendono ora la fissazione dell'udienza davanti al GUP di Sernia, entro i primi mesi del nuovo anno. Presumibilmente entro la tarda primavera l'inizio del processo davanti alla corte d'assise del capologo di regione. A Irma Forte la pubblica accusa ha contestato l'omicidio volontario, aggravato dal rapporto di coniugio, circostanza questa che non consente di scegliere riti alternativi a quello ordinario. Intanto Irma Forte, da qualche ora in libertà, dopo una detenzione ai domiciliari durata un anno, è trascorsa per la maggior parte del tempo in una struttura sociosanitaria di un paesino della provincia di Foggia. Grazie. 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 Grazie.